prova. Personalmente sono ancora convinta che la strategia del governo italiano sia quella più seria per risolvere il problema in modo strutturale, però richiede tempo, soprattutto se quel lavoro viene intralciato da interessi ideologici. Solo che l'Italia intanto non può più aspettare, perché in attesa delle soluzioni definitive la pressione è ormai diventata insostenibile. Annuncio dunque che, primo, ho scritto alla Presidente della Commissione europea per chiederle di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate. La Presidente von der Leyen è sempre stata collaborativa e io non dubito che lo sarà anche stavolta. Secondo, ho scritto al Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, chiedendogli di inserire all'ordine del giorno del Consiglio europeo di ottobre la questione migratoria. È mia intenzione in quella sede ribadire che è necessario avviare immediatamente una missione europea per bloccare le partenze dei barconi. Terzo, nell'immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per far fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto in questi giorni sulle nostre coste. Nel Consiglio dei Ministri di lunedì noi porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia. Limite che verrà alzato al massimo consentito dalle attuali normative europee, ovvero 18 mesi. Termine che non riguarda i richiedenti asilo per i quali oggi il termine massimo di trattenimento è già di 12 mesi e non sarà modificato. E stiamo già lavorando al potenziamento dei centri per i rimpatri in modo che chiunque entri illegalmente in Italia sia effettivamente trattenuto in queste strutture per tutto il tempo necessario alla definizione della sua eventuale richiesta di asilo e per la sua effettiva espulsione nel caso in cui sia irregolare. Perché altri anni di governi immigrazionistici hanno consegnato una situazione per la quale i posti nei centri di permanenza per i rimpatri sono scandalosamente esigui. E allora nel Consiglio dei Ministri di lunedì sarà dato mandato alla difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali.